La giurità decidere la vita di Sally McNeil, una femmina bodybuilder accusata di uccidere il suo figlio, un altro bodybuilder, su Valentine's Day, l'anno scorso. Siamo andando a un'esercizio, perché di quello che ho fatto oggi. Sally McNeil ha una fisica tremenda e si è margona a Ray McNeil, che è sicuramente uno dei pros più muscoli al vivo. Quando ho visto Ray per la prima volta è stato desiderio al primo sguardo. Credo che la persona che mantenesse la famiglia fosse essenzialmente Sally. Il culturismo ha un lato squallido di cui non si parla. Un uomo che pagava per adorare i muscoli. Essenzialmente era una prostituzione dei muscoli. Dieci incontri erano 3000 dollari. Facevo felice Ray, cioè gli pagavo gli steroidi. Lui mi ha colpita. Sally McNeil took a shotgun and blasted her husband and shot him again in the face. Sorry if I'm just afraid you don't do it. Gli aveva protetti come un animale feroce. Mi ricordo quanto fosse una tortura per me, dover stare seduto lì a guardarlo picchiare mia sorella, sapendo che sarei stato il prossimo. Sally non parlava del rapporto con Ray. Per me è stato un omicidio premeditato. Lei gli ha sparato in faccia. Ho il diritto di difendere me stessa. Non ce la facevo più, non volevo morire.